Benvenuti a tutti quanti in questa nuova video intervista esclusiva con Alessandro, creatore, proprietario insieme a Sofia Edoardo di Evoto Style, brand e negozio anche fisico oltre che online ovviamente, che abbiamo creato da zero insieme e che adesso sta ottenendo grandissimi risultati soprattutto in Italia, ci allagheremo anche in Europa per vendere ovviamente all'estero, come potete vedere, scarpe personalizzate e non su evotostyle.com. Ti do il benvenuto Alessandro. Grazie. E questa video intervista vogliamo un po' raccontare la tua esperienza con me. Per chi non mi conoscesse sono ovviamente Stefano Montana, ho generato milioni in vendita online attraverso e-commerce per i miei clienti e studenti. E ovviamente anche in questo caso siamo usciti da zero, ovviamente creato pochi mesi fa, no? Sì, pochi mesi fa, è nata da un'amicizia a un bar, per conoscenza di una terza persona che ci ha presentato. Ci siamo conosciuti a un bar, da lì è nata, non dico una sorta di amicizia, ma è nata subito feeling. Stefano è stato molto chiaro sin da subito sul percorso da fare, le tempistiche, le tecniche di vendita online. Piano piano ci siamo date delle tempistiche e delle scadenze e le abbiamo messe in pratica. Perfetto, diciamo subito più o meno quanto siamo riusciti a fatturare in un giorno al record, è stato su 2000 o poco meno mi pare? No, no, 2-3 mesi al giorno al record. Diciamo che abbiamo, partendo da zero, come negozio fisico, anche se poi il nostro non è un vero e proprio negozio commerciale nelle vie di Roma più importanti, ma ha sempre una sua vetrina molto accogliente. Il nostro business è totalmente online, 99% online, anche perché per poterlo fare, per poter fare questo business, ci dobbiamo dedicare più al laboratorio che alla clientela diretta che entra, noi lo chiamiamo showroom, perché è un posto molto carino dove regarsi anche per stare in compagnia, diciamo, non è un vero e proprio negozio. E poi praticamente tuo figlio Edoardo, nell'altra sala, crea praticamente le scarpe, è lui il genio dietro ogni scarpe, ogni creazione. Esatto, diciamo che io sono la mente burocratica, dai, perché sono un po' più grande di lui, quindi è lui invece il creativo, diciamo ci siamo divisi totalmente questi compiti, ognuno si occupa di una parte di attività, che ovviamente lui senza me non potrebbe stare, ma anche io senza lui non potrei stare. Naturalmente la nostra creatività e la nostra parte, sia commerciale che burocratica, amministrativa, gestionale, chiamiamola così, è legata da Stefano. Esatto, io sono invece la parte marketing. Esatto, la parte tutto ciò che si fa qui dentro esce grazie alla collaborazione con Stefano e con tutti gli strumenti che ci mette a disposizione per poter vendere il più possibile online. Ovviamente stiamo scalando sempre di più il mercato, sempre in maniera sostenibile, questo volevo precisare, perché tutti sono sempre spaventati dall'investimento che va fatto sull'online, cioè spendi 10.000, ti torna 1.000, spendi troppo, hai paura di un esborso troppo grande, invece con Stefano abbiamo fatto un percorso graduale, cioè l'investimento è stato da 0 euro a X euro, ma sempre graduale, sempre sostenibile, sempre in base alle possibilità che si avevano in un determinato momento storico. Assolutamente. L'attività è nata diciamo novembre 2020, no novembre 2021, l'attività è nata a novembre 2021, diciamo ci siamo messi a tavolino a studiare il percorso da fare, l'apertura ufficiale dell'online è stata a maggio 2022, oggi con luglio, diciamo così così, agosto sapete tutti che in Italia non si lavora, si va in vacanza, eccetera, 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 posso dire che abbiamo ottenuto risultati superati anche 2.000, dire eccellenti e dire poco perché per me erano totalmente inaspettati con investimenti adeguati anche al momento che attraversiamo economico, non dico solo in Italia ma anche nel mondo, no? Certo, poi più o meno abbiamo, più o meno mi pare che stiamo sugli 80, adesso 80 euro, diciamo che oggi, oggi giriamo, Massimo 100 euro al giorno siamo riusciti a spendere? Ma nemmeno, 100 euro al giorno ci siamo andati pochissimo, forse durante il back friday. Esatto, diciamo che con un investimento, diciamo medio 60-80 euro giornaliere, di pubblicità online, poi su tutti i canali, insomma, Stefano è l'esperto in materia, Pinterest, Pinterest in inglese, Pinterest su Google, Facebook, Instagram, tutto, siamo onnipresenti, completo, totalmente completo, con una totale, perché poi è stratificato l'investimento, un importo passo su Pinterest, un importo passo su Google, un importo passo su Facebook, eccetera, eccetera, stratificando l'investimento, ma complessivamente, diciamo che giriamo su 80 euro giornaliere, riusciamo a fare un fatturato, mettiamolo medio dai, 2000 euro al giorno di fatturato, quindi è un ritorno altissimo che io non mi aspettavo, naturalmente alle spalle di tutto questo c'è l'organizzazione, perché poi il cliente va soddisfatto, gli ordini devono essere vasi in tempo, c'è tutta un'organizzazione dietro per far funzionare, perché poi alla fine bisogna essere organizzati, perché tu puoi anche essere il più forte al mondo online, ma se poi non sei organizzato, duri due mesi, quindi non mi aspettavo assolutamente questi risultati, diciamo che era un po', anche se sono molto motivato, sono un commerciale, vengo da vent'anni di mondo commerciale, però sempre territoriale, sempre di presenza, sempre fisico, mai astratto, perché io lo chiamo astratto questo mondo, molti magari penso che hanno questa cosa, che non riescono a connettere il business fisico a quello online, o pensano che online non esiste, non si può toccare. La cosa fantastica dell'online è che tu sei chiuso con il laboratore, sei chiuso con il negozio, e arrivano gli ordini, cioè tu stai al mare, e arrivano gli ordini, tu stai in montagna, e arrivano gli ordini, ovvio che non è che puoi stare in montagna 20 giorni, e arrivano gli ordini, perché poi li devi lavorare, a meno che non hai una squadra che lavora per te, però diciamo, noi ancora siamo una piccola realtà, però diciamo che ci stiamo difendendo bene, e stiamo crescendo, ripeto, grazie a Stefano, soprattutto, voglio dire esclusivamente per Stefano, noi ci mettiamo tutta la parte nostra fisica, Stefano ci mette tutta la sua parte, tutta la sua conoscenza del mondo online, diciamo, questa unione sta facendo una crescita che non mi aspettavo assolutamente, cioè, è una cosa veramente importante, anzi, diciamo che, in alcune, chiamiamo le riunioni, perché noi poi ci facciamo, una videocall, una riunione settimanale, quando ci si può vedere ci si incontra, diciamo che noi abbiamo un appuntamento settimanale, mettiamolo così, in qualche appuntamento settimanale, per coordinarci, per fare, eh, punto della situazione, ho anche detto, ma, tiriamo un po' il freno, cioè, per paura di essere disorganizzato, a livello fisico internamente, no? Eh, troppi ordini, anche perché le fa, Edoardo le scarpe, esatto, quindi, diciamo che Edoardo, fisicamente fa le scarpe, e crea i nuovi modelli, quindi, per paura di non soddisfare il cliente, spesso ci siamo detti, ma vogliamo rallentare, anzi, non Stefano, perché Stefano vorrebbe aumentare ancora di più, mette mille euro al giorno di alza, esatto, perché, andrebbe fatta una cosa del genere, però, eh, bisogna fare una cosa sostenibile, una cosa fatta bene, come dice sempre Stefano, usa una parola che a me piace tanto, è scalare, questa è la parola che usa sempre, direttamente, direttamente, piano piano, parti da un euro, e arrivi a 100, 200, 300, poi a seconda della forza lavoro, pure che hai, e della forza creativa che hai, perché magari poi un prodotto che si ferma, devi pensare ad un altro, no? Quindi, certo, bisogna sempre stare attenti al mercato, a quello che succede, però, diciamo, sono molto, molto soddisfatto, sia del lavoro, sia di come ci segue, soprattutto, e soprattutto di come lavora, perché anche se non lo senti, eh, sei sicuro che il lavoro viene svolto, che la, il marketing è sempre sotto controllo, tutti i giorni, non c'è mai un giorno che manca, il controllo sul marketing, noi siamo tranquilli, che possiamo pensare a tutta la parte burocratica, tutta la parte fisica, tutto quello che c'è da fare, per smartire gli ordini, quasi in tempo reale, poi, ogni tanto qualche ritardo c'è, perché tanto succede sempre, qualche disguito, quindi, noi siamo tranquilli, che ci possiamo occupare totalmente, sapendo che c'è chi, ci segue, e chi, il marketing, e la parte online, la, la fa volare, e soprattutto, se dovesse accadere qualcosa, si, si blocca, si inceppa, arrivano pochi ordini, interviene, e sa dove mettere le mani, e sa, cosa fare, in tempo reale, sempre, cioè, ci anticipa sempre, eh, diciamo, le mosse, eh, io, raramente faccio una telefonata, dove segnalo, guarda, c'è un problema, lui mi chiama, ha detto, guarda, mi chiama prima lui, mi dice, guarda, sto cambiando delle cose, perché secondo me, c'è qualcosa da sistemare, quindi, siamo assistiti, cento per cento, eh, cioè, alle chiavi, alle chiavi del negozio online, ce l'ha lui. è assolutamente grande Ale, ma poi, diciamo che, è un po' tutto un ecosistema, no? Cioè, da una parte ovviamente il marketing, poi c'è anche il tuo lavoro, che sai vendere, sai come parlare, vabbè, diciamo, io vengo da... Edoardo che sa come creare, soprattutto, lui seleziona i prodotti, sa cosa piace alla gente, sa cosa vuole, sa cosa il mercato richiede, per quello che alla fine sono tante combinazioni, che portano al successo, ovviamente, quindi... Io vengo da vent'anni di sviluppo commerciale, sempre, viso a viso, quindi sempre di persona. Adesso, tutto il telefono, tutta Italia, Sicilia, Sì, sì, ho girato, ho lavorato sempre, sono in Italia, ho girato in lungo e largo tutta l'Italia, ho fatto direzione commerciale di azienda, ho fatto sempre parte commerciale, quindi sempre parte vendita, fisica, quindi affacciarmi a questo mondo, dopo forse venti anni, venticinque anni di sviluppo commerciale, fisico, da una parte, mi ha permesso di fermarmi, cioè fermarmi che significa? Significa che io ero un uomo con la valigia, quindi avere la valigia il lunedì mattina, e tornare il venerdì sera, oppure fare sempre il termittento, sui treni aerei, alla fine, con gli anni, diventa pesante, quindi sviluppare queste, le mie competenze, acquisite negli anni, portarle nel mondo online, grazie a Stefano, nel mondo online, mi ha consentito di fermarmi fisicamente, ok? Quindi di godermi di più la famiglia, di godermi di più gli amici, di stare più fermo, nella città dove vivo, quindi anche fare meno sacrifici, a livello di spostamento, e anche di stanchezza fisica, da una parte ero spaventato, perché tu ti metti a fare una cosa, che non conosci totalmente, però nei mesi di conoscenza con Stefano, in quei due, tre, quattro incontri che ci siamo fatti, anche nelle video call, perché abbiamo fatto delle video call, di approfondimento, per capire nel dettaglio, perché io so, essendo un neofita di questo mondo, volevo capire nel dettaglio, un po' più dentro di cosa si trattasse, ho avuto subito feeling, quindi quel timore di buttarmi in un mondo, che non conoscevo per niente, se non fatto da reparti tecnici, all'interno delle aziende, per le quali io facevo sviluppo commerciale, c'era sempre l'area web, l'area marketing, però io non ci ho mai messo, del mio, o non sono mai andato a curiosare, di come venisse fatto tecnicamente il tutto, quindi per me, affacciarmi al mondo commerciale online, era da una parte un po' di timore, da una parte una sfida, però il mondo va avanti, la tecnologia va avanti, non bisogna assolutamente fermarsi, e tu se riesci a sfondare con il mondo online, acquisisci anche gli spazi nella tua vita, quindi bisogna assolutamente togliersi i timori, e affidarsi alle persone giuste, noi abbiamo trovato Stefano, io Edoardo, mio figlio, abbiamo trovato Stefano, con la quale vi ho detto, è nata questa sinergia fantastica, ci sentiamo seguiti totalmente, al 100%, quindi ci siamo buttati totalmente, perché ci siamo affidati, ecco la parola giusta è questa, se volete un consiglio, vi dovete affidare, cioè vi dovete affidare e fidare, soprattutto, perché se andate, con sicurezza, sicuramente i risultati arrivano, se avete dubbi, perplessità, non c'è fiducia, ci sono cose che non vanno, è difficile, è dura andare avanti, quindi noi ci siamo affidati, ci troviamo benissimo, e posso consigliare veramente a tutti, questo professionista, che reputo veramente un professionista, perché dal nulla, ci ha creato un'azienda, che fattura tanto, oggi fattura tanto, in, sei mesi, quattro mesi, cinque mesi, se vogliamo togliere agosto, le vacanze, vabbè a inizio, abbiamo, siamo partiti, molto tranquilli, senza fretta, molto blando, diciamo, siamo stati anche fortunati, che non c'avevamo, la fretta, quindi abbiamo, ci eravamo dati come, progettualità, un anno, siamo arrivati a quello, che volevamo fare in un anno, voglio dire, con sei mesi d'anticipo, quindi, è sempre grazie a Stefano. Quindi la tua esperienza, con Stefano Montano, è positiva? La mia esperienza, con Stefano Montano, è positiva, sia a livello professionale, che a livello umano, voglio dire, anche a livello umano, perché poi alla fine, nel mondo del lavoro, la cosa bella è anche questa, si possono creare, amicizie, si possono creare sinergie, si può andare oltre, l'aspetto professionale, cosa che, a me piace molto, è un aspetto della vita, che mi appartiene totalmente, avendo girato in lungo e largo l'Italia, per 30 anni, ho amici ovunque, quindi, anche con Stefano, è nata questa, energia, amicizia, quindi, oltre a lavorare, ad essere un professionista, abbiamo anche il nostro angolo, diciamo di risate, dai, mettiamola così, ci divertiamo, andiamo anche a vedere il tuo figlio, giocare, ricordiamo, gioca calcetto, serie A2, esatto, per chi fosse interessato, può guardare, può guardare, le partite di Dovardo Piccaldi, sul pulsato, al tv, esatto, esatto, poi, per chi piacessero, per chi piacessero, le scarpe personalizzate, ci può contattare, su ebuotostyle.com, lì, vede tutti i recapiti, pagina Instagram, pagina Facebook, TikTok, ovunque, siamo presenti, quindi, il modo per contattarci, lo potete trovare, in qualsiasi momento, esatto, assolutamente, quindi, diciamo, un consiglio, a tutti quelli, che stanno iniziando, vogliono iniziare ad approcciarsi, al mondo dell'e-commerce, delle vendite online, sia magari in dropshipping, che come tu ben sai, è vendere online, semplicemente, senza, appunto, avere l'inventario, o avere prodotti, comprati in precedenza, come in questo caso, ovviamente, qui in questo caso, le hai, compri le scarpe prima, le modifichi, e poi le vendi, però, in qualsiasi caso, chiunque, si voglia approcciare al mondo online, voglia creare un brand, o qualcosa, iniziare, veramente, a fare qualcosa. avere le idee chiare, il primo consiglio che ho, cioè, che do, idee chiare, poi, sicurezza, cioè, certezza di quello che si vuole fare, assolutamente, bisogna essere certi, senza dubbi, perché se si ha un dubbio, poi, tutto ciò che circonda, è problematico, e, non avere fretta, dedicarsi, eh, il più possibile, non avere fretta, e soprattutto, togliere il muro, che il mondo online è una spesa, non è assolutamente vero, qui è un muro, ovunque andiamo oggi, parliamo, stai attento, ti fanno spendere un sacco di soldi, butti i soldi, se incontri il professionista, giusto, i soldi non li butti, non li sprechi, anzi, i soldi che metti, ti fruttano, 10, 20, 30, 40 volte, più di quello che metti, quindi, ve lo posso assicurare, per esperienza mia, da neofita, ovviamente, tempo al tempo, non si può pretendere, che si entri in rapporti, con Stefano, che dopo tre settimane, un mese, due mesi, si hanno i risultati, a bomba, bisogna fare un percorso, quindi bisogna, stare tranquilli, bisogna avere fiducia, bisogna fare questo percorso, stabilito con Stefano, e da Stefano, perché poi Stefano, valuterà il prodotto, che c'è da vendere, valuterà la strada, che c'è da fare, perché, un conto vendi una penna, un conto vendi una borsa, un conto vendi le scarpe, il mondo online, diciamo, è sempre uguale, però poi c'è anche, il prodotto vincente, e il prodotto, scadente, quindi se tu hai in mano, un prodotto scadente, e lo vendi, perché poi lo vendi, però è più difficile, no? Quindi magari, il percorso di avviamento, è più lungo, noi abbiamo avuto la fortuna, che il mio figlio, ha trovato, la chiave di volta, in 3-4 scarpe, particolari, che produce lui, che sono, molto richieste, ma sono molto richieste, per un motivo, perché Stefano, ha trovato la chiave, per pubblicizzarle, è questa, l'incastro del meccanismo, quindi dico, certezza, sicurezza, pazienza, e fiducia, queste sono le quattro variabili, che metto, ne metto un'ultima, secondo me, non si può fare, pensare di partire, nel mondo online, con i soldi contati, questa, anche secondo me, è una regola, devi vedere tutto, come un investimento, esatto, non possiamo pensare, ho 500 euro, voglio fare 100 mila euro, no, ci devo avere una base, che mi fa fare un percorso, piccola o grande che sia, ma una base, dove io inizio ad investire, poi piano piano, inizio a recuperare, però la base, ci deve essere, non si può pensare, di fare, un mondo online, avendo 500 euro in tasca, da queste 500 euro, ci voglio fare 100 mila euro, perché 500 euro finiscono, e non ce la farai mai, quindi la base, per investire, piano piano, gradualmente, ci deve essere, non si può pensare, di non avere economia, e sfondare, nel mondo online, quello, lo sconsiglio a tutti, cioè, non fate passi, con, anche perché, mi permetto di dire, Stefano, è un professionista, non si può far perdere tempo a Stefano, cioè, Stefano non sa, dall'altra parte, quanta forza economica c'è, quindi lui, vi prenderà in affidamento, vi, eh, farà, eh, conoscere il mondo online, vi seguirà il vostro mondo online, però poi, se dopo due mesi, non avete più economia, per andare avanti, lui ha perso tempo, perché il suo business, è, durare nel tempo, è, è avere il cliente soddisfatto, felice, cioè, come noi, noi ci siamo conosciuti, un anno, fa, proprio un anno, esatto, un anno fa, eh, un anno fa, eravamo, di dubanti, scettici, ma perché, sempre per il solito discorso, perché io, vengo dal, mondo commerciale fisico, oggi, il mondo commerciale fisico, non lo farei più, ve lo vorrei, assicurare, farei tutto online, da seduto, tranquillo, tranquillo, rilassato, senza stress, proprio, un altro mondo, un altro, un'altra, proprio un'altra vita, ovviamente, con un percorso, fatto bene, Stefano, vi posso garantire, è, è un professionista, quindi, se avete, poca disponibilità economica, che vi fa stare in piedi, un mese e mezzo, due, non fate perdere tempo a Stefano, perché, intanto, perderebbe soltanto del tempo, perché avrebbe un cliente, un mese, due, tre, e poi non lo avrebbe più, quindi, che senso ha, come avrebbe, sì, appunto, che molte persone, magari, si approcciano così, per provare, invece, alla fine, è online, è una vera e propria attività, un business online, è online, è come se tu apri un ristorante, apri, appunto, un negozio di scarpe, di vestiti, qualsiasi cosa, e tu apri online, è come se l'aprissi nella vita reale, solo che, nella vita reale, offline, ovviamente, anche online è reale, però, la differenza che molti non capiscono, è che, devi comunque fare degli investimenti, magari, per esempio, fisicamente, se tu hai un negozio, devi pagare l'affitto, online, se tu hai un negozio online, devi pagare, diciamo, la tua presenza online, attraverso i social media, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Google, YouTube, ovunque, ovviamente, costa un po' come se fosse un affitto, e quello è un investimento, è come se compri della merce, è la stessa cosa, è tutto, fa tutto parte di, appunto, un ecosistema che tu devi avere, e che devi capire, che vuoi creare per davvero, quindi, è un'attività, business online, l'e-commerce, social media marketing, che devi prendere seriamente, altrimenti, è inutile che lo fai, quindi, devi, qualsiasi cosa fai, online, come offline, devi prenderla seriamente, percorri una strada, dai tutto, 100%, investi, impara, sbagli, tutto, ok? È un percorso, come hai detto bene te, è un percorso, e va fatto, in tutta tranquillità, e in tutta fiducia, perché di qua, avete un professionista, serio, valido, che, ve lo dico, di 6, 200%, anche se non lo senti, lui è presente, altro, altro, consiglio, importante, che volevo dare, magari, esponete a Stefano, il vostro progetto, questo è un altro consiglio, che vi posso dare, fatevi fare, una consulenza, su ciò, che volete fare, cioè, prima di buttarvi, vi fate fare, una consulenza da Stefano, Stefano, questo è il mio progetto, come lo vedi, come non lo vedi, nel mondo online, come va sviluppato, secondo te, ho delle idee sbagliate, ho delle idee giuste, è vincente, non è vincente, ho degli accorgimenti, magari, prima di partire, fate questo, che, investite, non lo so, 300 euro, 400 euro, 500 euro, 200 euro di consulenza, a seconda di quello, del tempo che Stefano, deve passare con voi, fatevi fare, una consulenza, quella consulenza, secondo me, sarà, da voi benedetta, perché da lì, poi nascerà tutto, io credo che, anche questo, sia un passaggio fondamentale, perché magari, avete un'idea, e quell'idea, va corretta da subito, quindi, magari, il parete, del professionista, al momento, prima, di cominciare, come diciamo, qui a Roma, metti sul tavolo, la tua idea, metti sul tavolo, la tua idea, condividila con Stefano, trova, la giusta, strada, e poi, se sei convinto, la percorri, se no, ti fermi, assolutamente, perdi tempo tu, e perdere tempo Stefano, se non fate un percorso, a lungo termine, esatto, quindi, basta giocare, e perdere tempo, vuoi fare una cosa, falla, mi raccomando, non fate le cose a caso, ripetiamo, chiunque, per chiunque fosse interessato, a scarpe, online, volesse ordinare, scatto online, su, e vuoto, www.ev8style.com, c'è Alessandro, che vi risponde, qualsiasi giorno, una settimana, qualsiasi ora, tanto ragazzi, siamo online, no? Siamo H24, Edoardo, fa le scarpe, e siamo tutti felici, ok? Ok. Ti ringrazio Ale, grandissimo, grazie a te, ormai, siamo veramente, ormai siamo una famiglia, siamo diventati una famiglia, esatto, e, grazie a tutti voi, grazie a te che hai visto, questo video, questa video intervista, questa esperienza, di Alessandro, ripeto, mi raccomando, non fate le cose a caso, e, buon business, a tutti quanti.